allora siamo di nuovo in diretta abbiamo pensato che forse è carino e può interessarvi farvi vedere le vetture dall'esterno che sono ancora qua ai giardini reali adesso facciamo una una panoramica delle nostre vetture delle due vetture che quest'oggi sono sono state scelte per per questa iniziativa siamo un po in controluce non so se si riesce anche a vedere la mole antonelliana purtroppo qua la luce mattutina su questa inquadratura non rende giustizia della bellezza di questa di questa parte della città e con un po d'orgoglio diciamo anche che le nostre vetture non sfigurano in questo in questo quadro ora cerchiamo di andare un po meno contro contro luce per farvi apprezzare le nostre vetture facciamo anche vedere gli interni il banco di manovra e questi gli interni in legno con le targhe che i nostri soci hanno in parte restaurato e in parte replicato in quanto andate perse nel corso nel corso degli anni e qua troviamo le nostre ultime pubblicazioni come vi dicevamo nell'altra diretta il libro su Peter Witt e il nostro calendario del 2021 trovate tutte le informazioni relative alle nostre pubblicazioni sul sito web della TTS www.atts.to.it e adesso vi facciamo questa inquadratura dell'interbinario con le due vetture e le foglie autunnali che dominano il nostro socio Luca e sull'altra vettura e qua un sole un sole invernale già ormai penetra sugli alberi dei giardini ideali ciao a tutti